Ciao a tutti, sono Marco Ferrari e oggi vi porterò a conoscere un'altra imperdibile occasione che potete trovare solo nelle nostre sedi outlet multimarca di San Zeno Naviglio, Brescia, Curno, Bergamo oppure dove mi trovo ora a Coccaglio nel nuovo centro outlet multimarca usato di Gruppo Carmeli. Oggi andremo a conoscere nel dettaglio la Fiat 500L. La nostra Fiat 500L mantiene l'animo elegante e riconoscibile ovunque della citycar che abbiamo imparato a conoscere, la 500, ed è possibile riconoscerlo all'interno dei fari ovali e del baffo cromato che racchiude il logo. Le dimensioni sono aumentate e con esse aumentano anche le portiere che da 3 passano a 5 e proprio sulle portiere possiamo notare i fascioni laterali protettivi che aiutano a snellire la forma della nostra macchina. Inoltre sono presenti numerosi cristalli che aiutano a dare luminosità alla nostra carrozzeria. Abbiamo detto che le dimensioni sono notevolmente aumentate e di conseguenza anche all'interno gli spazi si sono notevolmente ingranditi. Andiamo a vedere. Appena prendiamo posizione sulla nostra 500L possiamo notare le forti somiglianze con la classica 500, a partire dal volante completo di comandi, passando dal tachimetro per il display radio, dalla zona climatizzatore e soprattutto arrivando alla zona del carro. Stavamo dicendo che gli spazi sono aumentati, infatti l'abitabilità anteriore e quella posteriore si sono notevolmente ingrandite così da garantirci viaggi più lunghi e più comodi. Comodità che è esaltata anche dai nuovi sedili più grandi e avvolgenti rispetto alla classica 500. Anche il bagagliaio ovviamente guadagna spazio, infatti abbiamo 415 litri di spazio che possono diventare 1480 se abbassiamo i sedili posteriori. Veramente spazioso per tutte le esigenze. Ma torniamo davanti per dedicarci all'infotainment. Infatti possiamo trovare lo schermo touch che ci permette di controllare radio, media, le informazioni relative al nostro veicolo, la connessione bluetooth e le app per il nostro telefono. Grazie al cambio manuale a 6 marce abbinato al propulsore 1.4 benzina da 95 cavalli è possibile avere un'erogazione fluida e pronta per ogni situazione. Ovviamente la nuova Fiat 500L è disponibile in altri colori che potete venire a vedere in totale sicurezza di persona nelle nostre sedi outlet multimarca di gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, Brescia, Curno, Bergamo oppure dove sono ora a Coccaglio nel nuovo centro outlet multimarca è usato. Per informazioni ovviamente non esitate a contattarci allo 030 77 24 011 oppure andate sul nostro sito www.gruppocarmeli.com Non mancate al prossimo video!